Raga, è la fila di macchine rosse più lunga che si sia mai vista a Milano Praticamente quando esco dalla doccia succede questo Comunque torno sempre a orari decenti dai miei DJ set Ah ma c'è il secondo cane Non lo sapevi? Raga, sono preso benissimo Come funziona quindi? Volevamo andare a casa di fede ma cioè tipo Ma perca I've got you in my space I won't let go again I won't let go again Do it, do it, do it Wait, 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 wait No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perché